A meno di una settimana dal sopralluogo del presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, il Comune ha iniziato a lavorare per mettere a disposizione degli studenti che adesso stanno seguendo le lezioni in DAD 10 aule. Il sopralluogo sia della provincia che della scuola è andato bene, stanno ultimando in questo momento come dire tutti quelli che sono gli atti formali e amministrativi perché quella possa diventare una sede temporanea per almeno 10 classi dell'Ipsia Marconi in attesa che la provincia esegua i lavori di cui il presidente ci ha parlato la scorsa settimana quando è venuto in sopralluogo alla scuola e quindi quando abbiamo parlato con i presidi, con i rappresentanti dei genitori e con il consiglio di istituto. Per cui si va naturalmente in quella direzione, io spero, mi auguro che possano essere fatte rapidamente tutte le operazioni necessarie di carattere burocratico perché al più presto questi ragazzi adesso sono in DAD, possano tornare anche se non nella loro scuola, nella quale torneranno quando saranno completati i lavori, ma almeno in una sede che possa accoglierle e quindi potergli consentire di fare lezioni in presenza. Pochi giorni prima del suono della prima campanella, in una delle aule dell'istituto di Via Trieste era crollato sollaio e controsoffitto. L'edificio individuato dal Comune di San Giovanni per la sistemazione provvisoria si trova in Centro Storico in Via San Lorenzo, nei locali delle suore stimatine. Si trova nel Centro Storico di San Giovanni Valdano e quindi è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione, dalla stazione degli autobus e poi anche da quelle aule che sono destinate ai laboratori che saranno poi riaperte all'ipsia. Sarà la scuola adesso a decidere quali classi saranno indirizzate verso questa sistemazione temporanea.